Ti sei chiesto come hai potuto trovare un simile tesoro? L'idea non disegno per te, un destino. Ho visto il suo potere con i miei occhi. Rilasciare la sabbia riappogge il tempo. E solo chi possiede il pugnale ne è consapevole. Come hai fatto, eh? Solo il pugnale può sbloccare le sabbie del tempo. E c'è chi userebbe questo potere per distruggere il mondo. Tempo che tutto cancelli. L'unico modo per impedire quest'armageddon è portare il pugnale al tempio guardiano segreto. Dobbiamo portarlo lì, d'asta. Quanto ti piace dirmi quello che devo fare, vero? Solo perché sei bravo a eseguire gli ordini. Non ti ci abituare. Assassini. Seminano terrore nel cuore di quelli che incontrano. Un così nobile principe. Che salta in aiuto della bella in pericolo. Chi ha detto che sei bella? Ci sarà una ragione per cui non stacchi gli occhi da me. Tu sei... E io... Trovatelo! L'Alto Tempio è sorvegliato da una specie di demone. Dastan, dov'è il pugnale? Perquisiscimi pure se vuoi. E fa un lavoretto accurato. E' tempo. Andiamocene da qui. Corri! Perquisiscimi pure se vuoi. 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 Grazie a tutti.